buongiorno e buona domenica come va qui va così né carne né pesce né sole né fresco né una cappa di diafa indescrivibile non si muovono neanche le fogliette del basilico eh vabbè tanto anche se ci lamentiamo non è che possiamo cambiare come un bottone girare mettere fresco prendiamo quello che viene siete in vacanza io ancora due settimane volevo dire un po di cose io spero di riuscire a dire tutto con calma e senza ingarbugliarmi perché quando mi girano ho visto un po di video della diversamente sincera un po ne ho visti due e mezzo e neanche tutti perché salto 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 allora in tutti i video il il tema dominante è muti dovete stare muti muti dovete stare minchia allora ti ripeto che tu non sei assolutamente nessuno sei uno zero 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 sei come tutti noi non sei nessuno per dire ad un'altra persona o altre persone che non devono parlare io io parlo personalmente di me parlo fin quando dio me ne dà la possibilità io poi dice che lei è forte perché se fosse una ragazza fragile cioè lei non è fragile come e tutti i video che hai fatto fingendo di piangere di fare i video con i maglioni tirati su a modi passa montagna dove fingi di piangere sempre a secco falsona di m con 4 m maiuscole come se adesso sei forte ha capito poi fai fa i video sembra che abbia una t-shirt visto che lei dice lei si vede una gran come ha detto buonazza ma dove li hai comprati quegli specchi cioè ci dà il nome di quegli specchi mamma ci sono due api che girano non ho paura delle api ma a una certa poi rompono praticamente è tutta abbronzata non so se abbronzata o zozza e non è solo il collo come tutte le persone anche io sotto proprio il collo sotto il mento resti un po bianca no lei è bianca come una t-shirt praticamente al giro perché l'ultimo dei menti quando si appoggia e così ma lei si vede una buonazza però non è che non è che dipenda da quello buonazza no tutto dipende io te l'ho sempre detto tu fossi anche 50 kg tu saresti bruttissima lo stesso perché sei cattiva arrogante sbrufona non c'entrano niente 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 i tuoi chili però evita di io mi vedo bellissima io sono bellissima guardati allo specchio guardati allo specchio ma però ma però ma lei si para sempre si nasconde dietro il dito body sce mi sce che poi non so perché parla così come una stupida c c c c c le c le g ok non sei bonazza credi credimi mettitelo in testa sei una persona normale imbruttita dalla cattiveria non dai chili che tutti pari sempre il culone body shaming body shaming no 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 sei brutta perché sei cattiva non perché hai qualche chilo in più qualche ma non c'entra niente sei proprio cattiva 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 poi dice che vabbè siamo invidiose lei è il marito lei è il marito il marito lei è il marito numero uno non ce ne sono altri e siamo noi che facciamo scappare i nostri mariti per cui poi invidiamo lei che ha il top dei top la creme della creme scusa ma se noi facciamo scappare i nostri mariti e se i nostri mariti scapassero si porterebbero dietro carica batterie e le mutande capitasse mai che durante la fuga un'avventura qualcosa almeno le mutande pulite o il caricabatterie per chiamare visto che hai se non ti sei dimenticata che il tuo ex è scappato dicendo la classica frase vado a prendere le sigarette vado a fare dei servizi se ne è fuiti a gambe levate lasciandogli tutto uno e poi devo dire aspettate perché ho fatto il sugo di pomodoro ma coi pomodori freschi e aspettate ecco volevo dire un'altra cosa all'ambrogina alla bidella ambrogina cara ambrogina visto che tu in continuazione non perdi occasione per umiliare quella specie di alfa che la falsona si fa finta lo venera a uomo alfa tu invece ambrogina non perdi occasione per denigrarlo per non per offenderlo ma per frecciatine per far capire a chi sta ascoltando la live il video che è un emerito proprio così tua figlia in quel video la tua figlia figlia ha aperto ha esordito mostrando il ditone medio come fa sempre tu non hai proferito parola zitta muta muta sei stata muta sei stata non hai detto chiara non esagerare una parola e poi inutile che dici ma voi non sapete quando chiudo il video cosa gli dico a noi non ce ne può fregare di meno di quando chiudi il video cosa gli dici perché allora lo puoi fare anche con davide perché non lo fai anche con lui due pesi due misure è così che ti hanno dato l'ambrogino d'oro sai cosa ti hanno dato paleta e spazzettone e vai a pulire le classi ambrogino d'oro un ambrogino d'oro è una donna cioè no è una donna è una persona che che penso che sia un riconoscimento un riconoscimento per un come si dice per l'insegnamento per i servizi dati per la qualità per la persona integgeri ma a te che hai tenuto botta a tua figlia quando si è inventata le gravidanze mamma cosa di dici qualcosa che sono incinta a meglio così che una malattia ma vergognoso ambrogina di cosa poi dice che sempre la falsona che noi dovremmo essere presi presi messi in un laboratorio e studiati vedere da dove esce questa invidia dove da dove escono queste per i video contro che le facciamo noi dobbiamo essere messi in un laboratorio e tu che è un corpo che assorbe bambini di cinque mesi spariti senza raschiamento senza niente assorbiti dal tuo corpo non si sa in quali organi si siano nascosti spariti una settimana che è che usciva col bau con con l'ebete incinta di due gemelli colpo secco adesso dopo sei cinque sei non so neanche quando lo so quanti anni niente cartuccia e la canna del fucile un po da pulire perché è zozzo un pozzone l'uomo alfa è zozzo c'è a salve proprio pum spara a salve prima una settimana colpi da due gemelli adesso falsa e poi continua perché ha fatto penso una live però che io ho visto prima parlava e parlava non faccio nome non perché io sia gelosa ma perché non gli voglio dare ve lo dico io parlava di vodka parlava di vodka e dell'ultimo video che ha fatto allora ha cominciato prima ma sul leggero tu dai via del tuo di qua e di là vabbè e poi ha cominciato a offendere il suo ragazzo il fidanzato al compagno di vodka perché lei dice che visto che si è permesso di dare dello stupido a un uomo alfa di un'intelligenza rara è elevata in massimi livelli allora lei dice che che il fidanzato di di vodka è uno stupido un ebete un rimbambito e chi più ne ha più ne mette continua con questi epiteti perché dice che è un personaggio pubblico io non l'ho mai visto intanto personaggio pubblico non ho mai visto che faccia video primo secondo lui non ti ha fatto niente dovevi prendertela con chi ha fatto il video e comunque tuo marito fa video fra virgolette fra virgolette ma con molte virgolette perché lei dice tu hai cancellato il video perché ti vergogni del tuo ragazzo io non ho mai cancellato i video di mio marito perché non mi vergogno vi ricordate i primi video del del cagnolino Davide quando lei gli scriveva tutto e lui faceva i video leggendo non si sapeva neanche dove guardava come leggeva non è che si è cambiato adesso perché si mette in modalità ma tu pensi che è il cellulare che si è bloccato il computer che non ha più batteria invece è lui che è in modalità off white tu dici che tuo marito tuo marito guarda io non lo vorrei neanche se fossimo solo io e lui in un'isola deserta piuttosto vedo in giro se c'è qualche scimmione scimmio guarda neanche se me lo regalano lo vorrei quindi penso che come me la pensano gliela dal gatto guarda guarda no ma su un marito se in un video non so quando l'ha fatto perché io non ho visto il video ho visto la reaction di un altro canale che fa le reaction che ogni tanto mi fanno ridere e cioè non sapeva neanche cioè diceva cose senza senso nel senso che se deve prendere un camper minimo lo prende un mese perché per una settimana lui al re de roma al re de 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 quarto il giaro non si sporca neanche per una settimana poi però chiede con tutta l'intelligenza che ha se il camper si guida con la patente B oh cazzo ma come le guidavi le ambulanze con la patente trovata sulle patatine o sul tipo? di de de dove l'avevi trovata? ah no su quelle palline dove metti un euro una volta erano 500 lire o non mi ricordo 100 lire non mi ricordo più giravi ti esce la pallina e mamma ho trovato la patente è così che l'hai trovata la patente perché non puoi dirmi che non sai con quale patente si guida un camper perché quando fai l'esame e non so se hai fatto gli esami cioè è una domanda da esame quali mezzi si possono guidare con la patente B 1 ma il grandissimo uomo alfa che lui è intelligente e lei scherziamo ma siccome lei è sempre allo stesso livello perché lei a lei quando manca il pesce torrone dove va? lei si rifugia sulla città perduta dei torroni su Badu e il primo affamato di patatine lesse fritte come sia sia perché col secco va bene anche la tempesta in Veneto si dice col secco va bene anche la tempesta lei si rifugia là il primo malato affamato e lo prende e poi siamo noi le cagne se provi solo se provi solo a farmi quel verso a dirlo a me vedi come ti faccio io la dieta rapida te la faccio senza quella finta che stai facendo tu ti faccio io te la faccio fare io lei va su Badù carica, fa il carico da 90 questo, 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 questo ha fatto la lista poi nessuno se l'è cagata perché dopo averla vista è sentita parlare più che altro più che altro sentita parlare gli ha detto ciao poi è arrivato Baucon è Baucon che voglia di lavorare saltami addosso fammi lavorare meno che posso e questo gli ha detto ah un canale youtube io prendo soldi eh tu non lavori tu prendi soldi con me ti apro il canale perché quello che hai detto nel video, nella live quella cazzo hai fatto non lo dici a tuo marito perché ha detto senza parlare di me vediamo provate a parlare di altro vediamo chi vi si fila nel canale perché tuo marito non apre un canale Davide come cavolo si chiama Chiarimberti vabbè come si chiama si chiama e senza te fa lui le live modalità white con gli argomenti cioè con la sua cultura come ha acculturato lui di politica come di tutto qualsiasi cosa si può parlare di tutto con lui vediamo quanti quante visualizzazioni quanta gente tira su vergognosa aspettate su buono vediamo e anche stamattina l'ambrogina cioè stamattina perché l'ho visto io stamattina perché io sono su dalle 5 perché ormai il mio corpo all'orario e io adoro alzarmi presto fare colazione qua fuori avere il tempo di di restare a guardare un po' telefono e poi mi sono già fatta i fagiolini puliti lavati e lessati ho fatto il sugo con i pomodori freschi devo fare le zucchine e altre cose però ho un problemino cioè avevo comprato il passaverdure nuovo nuovo di zecca mai usato io ce l'ho visualizzato in mente però non riesco a trovarlo sono andata anche ieri nell'altro garage e non so come passare non voglio frullarlo perché si non andrebbero frullati i pomodori vabbè dai ci penseremo dopo e così anche stamattina dicevo perché io l'ho visto stamattina l'ambrogina vicino alla figlia lei che ne diceva di tutti di tutti i colori e niente non ha aperto bocca ce l'aveva faceva solo battute su senza anima che ha fatto un video anche lei che parlava della mamma dicendo secondo me fra parentesi tutte cose giuste perché non ha detto niente di che non esiste anche perché l'ambrogina lunosa io la seguivo su instagram perché io non sono cioè non è che se ce l'ho con una per me tutti o chi va con lei ma neanche le persone che mi seguono per dire se anche scrivessero un commento o si scrivessero da chiaro per me è una persona libera libera di fare ciò che vuole nel rispetto per le altre persone ognuno è libero per cui su instagram la seguivo su instagram e ogni tanto pubblicava veramente delle foto stupende e io lasciavo like senza commentare né niente alle foto e lei ogni ogni tanto mi scriveva un grazie mi metteva un cuoricino e morta là non è che avevamo discorsi rispetto così pubblicava delle foto stupende perché no quando secondo me ha capito chi ero da vigliacca ma neanche dire guarda mi dispiace ho capito chi sei e non è coerente né né tu né io che vabbè niente io ho visto che non trovavo più perché tutti i giorni trovavo 50.000 foto perché lei tutto il giorno sul cellulare però vabbè può fare quello che vuole e poi sono andata a cercare e non c'è mia bloccata e allora Ambrojina si fa così è così che insegnavi i tuoi alunni e per questo che ti hanno dato l'oscar come migliore bidella non protagonista anzi no come migliore maestra non protagonista fra virgolette perché facevo la bidella che è un lavoro di tutto rispetto perché io ne avevo una all'elementari che era un amore un amore purtroppo non c'è più e si chiamava Adele mamma che brava che brava altro quella si meritava l'ambrogino d'oro altro che tu che comunque non ci credo che l'hai preso comunque non ci credo ma neanche come la falsona che ha preso due medaglie d'oro una per il nuoto e l'altra per il lancio del peso si dice così silencio del peso vi rendete conto due medaglie d'oro dove sono dai che ti hanno detto ti hanno dato la 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 pataca di consolazione e quando sei andata a casa tua mamma ti ha detto è una medaglia d'oro così tu ci hai creduto e hai le medaglie d'oro sono patacche sai sono patacche di consolazione a chi arriva ultimo per ultimo guardate il tempo poi ha detto un'altra perla una perla ha detto che che qualcuno ha detto che sua madre sta sempre al cellulare ma che ha lavorato tutta una vita sai che adesso può fare quello che vuole e fin qua tutto bene può fare quello che vuole a meno che andare sotto tutti i video e offendere le persone intanto e poi continua dice voi che non avete una vita non fate niente tutto il giorno noi non facciamo niente tutto il giorno e tu lazzarona e tu sboldra cosa fai tutto il giorno zozzona non pulisci non ti lavi non ti curi ah no scusa scusa bonazza un gran pezzo di bonazza come te perché si deve curare sei bella bella come il culo di una vedella sei proprio bella bella con quattro L bella un viso dolce gentile pulito un animo buono gli occhi buoni sei brutta ma brutta ma brutta ma brutta perché sei cattiva cattiva e cattiva arrogante bugiarda chi più ne ha più ne metta però ha detto che delle due penso che parlasse di senza anima e della dama nera farà un video una live dipende quando vuole lei quando lo dico io quando lo dico io farà un video una live quando lo dice lei e niente e ne dirà di cote di crude sai che paura rabbrividiamo rabbrividisco e poi continua con sta storia che a me quando lo dice le budella non lo so fanno la ola fanno la ola e mi dicono calma quando dice io sono chiara ad Alessandro l'ha detto anche in questa stamattina che ho visto tre volte io sono chiara ad Alessandro e come chi è sei che cosa cosa mi significa questo chi sei e allora e allora che hai detto che sei chiara ad Alessandro cosa dovrei fare brrrr brrrr presi a uno come se lei fosse ah sì telefona farà saltare il lavoro tu prova solo poi ti faccio vedere tu prova a far saltare il lavoro a qualche persona che ne ha bisogno che lavora onestamente e poi voglio vedere se ancora resti nelle case popolari che non ne hai nessun diritto io telefono io gioco a bullying io faccio strike ma chi cazzarola sei ma chi sei che fai schifissimo sei non sei non sei un pallone gonfiato sei una mongolfiera gonfiata di io di di arroganza di io faccio ma cosa vuoi fare e poi continua sempre col video di vodka che ah gravi perché ho messo nella chiavetta ma sai carabinieri quando ti vedono mettono il cartello con la tua faccia DM DM in grande maiuscolo e dicono io non posso entrare i carabinieri della zona hanno tutti un cartello con la sua faccia scritto io non posso entrare ma cosa vai a fare poi dice partono veramente le difide perché allora le denunce è un'altra delle balle che ti inventi io voglio vedere a quanti arriveranno le tue denunce falsa di una falsa falsa di cacona mamma cacca cacca mamma vorrei vorrei sapere i miei vicini io spero che siano ancora dentro volevo fare ancora tre quattro melanzane ma non ci penso neanche a metterle fuori questo tempo qua si rovinano le metto sotto sale nel pomeriggio e le faccio domani che naturalmente lunedì ci saranno 40 gradi come giovedì scorso vabbè fa niente e così volevo solo dire io vorrei avere che tu dici un confronto con me un confronto con me io vorrei veramente avere un confronto con te 5 5 1 2 3 4 5 5 5 minuti e ti asfalto come come degli operai che aspettano l'ultimo pezzo da asfaltare poi sono in vacanza ti asfalterei così a secco zack perché io a differenza tua ce l'ho il cervello e comunque fai un po' di doposcuola al tuo uomo alfamen alfamen zerbino al tuo zerbino che hai vicino zerbino che guidava le ambulanze non sa cos'è la palpebra a una macchina che arriva fino in America così in macchina lui va non sa come si usano i camper come si guidano come si affittano e con quale patente si usa con quale patente si guidano i camper altre castronerie non sa niente di politica non sa niente di cultura però è un uomo alfa questa stavo per dire una cosa è meglio che vergognati tu sai vergognati 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 e vergognati ancora e ripeto non sei nessuno non sei nessuno nessuno e nessuno zero assoluto sei solo una pagliacciona che fa visual perché il trash è proprio o perché caga in live o scorreggia in live o ruta di brutto fa le live nel cesso mentre sta defecando così questo è proprio i contenuti del tuo canale top top di utenti che sono tre quarti comprati perché dove sono e poi ti sei fermata là volevi arrivare come follettina ma ti è il tuo ditone fa conto che ti sto facendo il tuo ditone volevi arrivare come follettina le bambole i video smr dov'è le maldive e i film avete comprato i biglietti io ho già comprato i biglietti sto aspettando l'uscita del film la storia della falsona vabbè ragazzi vado a vedere come posso fare per il mio sugo vi do un bacio enorme vi auguro una buona domenica un buon inizio settimana un bacio enorme enorme un abbraccio e a presto ciao